Mi pongo e vi pongo questa domanda, questo interrogativo. Ma voi quando andate a lavorare venite presi da casa, dalle vostre case in macchina? Avete l'autista? Penso che la maggior parte no, se io vado a lavorare prendo la macchina, sbatto per trovare parcheggio, pago il parcheggio e poi vado e arrivo sul posto di lavoro. Questo non vale per la figura del sindaco perché c'è questa situazione in cui è una prassi consolidata, magari anche la legge lo consente, non lo metto in dubbio, i sindaci vengono presi da casa propria con l'autista del comune attraverso un dipendente comunale che lo porta a Palazzo di Città. È una cosa assurda, è una cosa assurda. Scusate, se fare il sindaco è un lavoro, è un'attività, tu caro sindaco Melucci nella fattispecie, devi venire a lavorare con la tua macchina, anche perché il sindaco Melucci risiede a Crispiano, non a Taranto, è già qui, è tutta un'anomalia, il sindaco di Taranto che risiede a Crispiano. E dove sta scritto che l'autista deve andare a prendere Melucci a Crispiano? E quanto si spende ogni volta di carburante, avanti e dietro? Per cinque anni, pensate un poco voi. Allora, la legge lo consente, non è certamente un abuso, però un sindaco, nell'ottica del rispetto verso la città, un sindaco nell'ottica del risparmio dice grazie a Dio prendo oltre 8 mila Euro, più o meno tanto prenderà forse anche di più, prendi la macchina e vieni. Qual è il problema? C'hai i soldi per pagare il carburante, non riesco a capire perché il sindaco Melucci debba essere trattato come un sovrano, come una divinità, come un re. Se io fossi sindaco verrei con la mia macchina, perché è bello girare con i propri mezzi, capire le difficoltà del cittadino, sentirsi cittadino e non re, non monarca assoluto. Peraltro Melucci non gira neanche in città, non lo si vede quasi mai e dobbiamo andare pure a prenderlo, dobbiamo pure scomodarci di andarlo a prendere a Crispiano, avanti e dietro, avanti e dietro. Ma stiamo scherzando? Melucci, su dai, prendi la macchina e cammina così ti trovi nel traffico, capirai il casino, devi imparare a essere un cittadino come gli altri. Questa situazione di essere preso e portato avanti e dietro, a mio avviso è un privilegio che va eliminato. Ripeto, la legge lo consente, non c'è certamente un abuso, lungi da me dire una cosa del genere, però esiste anche, come dire, un'etica, esiste anche una scelta di coerenza, di rispetto, di opportunità. E basta con sta storia, dobbiamo andare a prendere Melucci da casa, da Crispiano. Basta, su Melucci, dai, muoviti, muoviti, vieni con i tuoi mezzi a Taranto. E basta, cittadini, voi che buttate il sangue, io che butto sangue per trovare parcheggio e consumo carburante, e qua lo dobbiamo andare a prendere pure da casa. Ma per favore!